Senatore Antonio Di Pietro è più giovane del senatore Andreotti e da bambino andava San Giovanni Rotondo con la mamma. Io sono affezionato al ricordo di Padre Pio perché mia madre quando ero bambina mi diceva sempre sii più paziente, impara da Padre Pio. E lei pensa di aver ascoltato il consiglio? Se si è ascoltato un po' di più era meglio. Senta, che ricordo ha di quelle prediche, di quelle messe lunghissime? Io ricordo soltanto tanta gente, quindi ricordo invece di più il modo in cui mi sono avvicinato a San Giovanni Rotondo, la sua storia da quanto ero maturo, anche negli anni scorsi. Nei momenti del bisogno c'è bene riflettere un po' sulla sua storia, sul suo essere personaggio scomodo e sulla sua pazienza. Ci aiuti tutti ad essere un po' più umili? Grazie.